Ehi la ciurma, io sono Mazzatessa e siamo qui per una breve recensione di Fallon Sails Fallon Sails mi è stato mandato da Ocomotive, che ringrazio, e gli stessi sviluppatori di Ocomotive appunto lo definiscono come un vehicle adventure game, cioè un gioco di avventura con un veicolo Diciamo che è una sorta di, non vorrei chiamarlo Walking Simulator perché è un termine che non mi piace ed è dispregiativo Usiamo ENG, Environmental Narrative Game, che mi sembra un ottimo sinonimo e un ottimo alternativo Quindi usiamo ENG, è un ENG in cui bisogna esplorare la storia e cercare di capire che cosa è successo Farsi influenzare dal mondo che ci circonda Ed è molto ereditato da quello che è lo stile di gameplay di Inside e di Limbo Prima di Inside Quindi diciamo direttamente da Limbo e poi anche da Inside Quindi è un scorrimento orizzontale Abbiamo di nuovo un bambino che usiamo nelle nostre azioni Però a differenza di Inside e Limbo ci muoviamo attraverso una sorta di veicolo È un, diciamo, un veliero con delle ruote steampunk Ecco, un veliero steampunk con le ruote Qui aggiungeremo dei pezzi E una parte principale, una componente principale del gameplay È proprio quella di far avanzare questo veicolo Perché a differenza di Inside e Limbo dove muovevamo l'omino A differenza, cioè, a parte l'estratto finale, diciamo, di Inside Con quel che poi è successo Abbiamo questo veliero da far andare avanti E ha bisogno quindi di carburante Quindi dobbiamo raccogliere del carburante e metterlo dentro il serbatoio, diciamo Sì La camera di combustione Sì E sfiatarlo ogni tanto perché si forma del vapore all'interno E dobbiamo gestire un paio di cose anche all'interno del veicolo Quindi è anche molto interessante quello perché mentre andiamo avanti Dobbiamo sia guardare dove siamo Cosa sta succedendo Prepararci a quello che stiamo incontrando Però anche, che ne so, rallento, mi fermo Perché lì ho visto che c'è una tannica di benzina che posso utilizzare Oppure, ah no, aspetta, devo abbassare le vele Quindi sali al pieno di sopra con sto omettino e abbassi le vele Ho trovato molte recensioni negative Cioè molte Ci sono state delle recensioni negative che ho guardato su Steam Perché guardo sempre un pochettino le recensioni prima di fare la mia Per prendere spunto E alcune recensioni negative dicevano E alla fine ti muovi e basta, è noioso Perché per tre ore fai le stesse cose Metti il carburante e vai avanti Metti il carburante e vai avanti Metti il carburante e vai avanti E invece no, non è così Io non l'ho proprio percepito così E giocandolo ho proprio sentito questa progressione Nel senso che Uno vengono aggiunte delle parti a questo veicolo Quindi all'inizio non hai le vele Poi dopo tieni le vele Poi hai altri pezzi A un certo punto interviene anche la possibilità di riparare Oppure spegnere incendi che si verificano a bordo Utilizzare delle sorte di carburanti differenti Quindi ho proprio visto una progressione anche nel veicolo E una progressione nel gioco Che appunto spezza questa monotonia Non c'è stata monotonia dal mio punto di vista Anzi me lo sono giocato tutto di fila Senza sentire un attimo di noia No, forse in due sessioni Sì perché dura circa tre ore Non è lunghissimo Come d'altronde non sono Non possono essere lunghi questi tipi di giochi Perché altrimenti davvero subentra la noia Il mondo di gioco in cui ci troviamo è Qualcosa di molto steampunk Ma è uno steampunk un po' particolare Perché non ha il sapore di ottocentesco Con innovazione tecnologica È qualcosa davvero di molto diverso E come in Inside e in Limbo Abbiamo solo degli assaggi di ipotesi Che possiamo fare su quello che è successo È successo qualcosa di importante in questo mondo Che sembra essere la Terra Verosimilmente è la Terra Ma può non essere la Terra Dopo una catastrofe C'è stato qualcosa di molto importante Che ha sconvolto tutto Perché il mondo è devastato da qualcosa Che sia stata una camalamita naturale Che sia stata una guerra Che sia stata una rivoluzione industriale Andata male Non è dato del tutto capirlo Ci sono degli indizi qua e là In alcuni edifici Soprattutto verso il finale In cui scopriamo degli altri veicoli Simili al nostro E poi come appunto in Limbo e in Inside Il finale lascia ancora più dubbi Di quanti non ne avevi prima Quindi è anche interessante da rigiocare Io non ho il tempo assolutamente Perché sapete che ho da giocare davvero troppa roba E troppi video Ho da fare di recensioni Di cose che ancora ho da installare Però davvero sarebbe anche da rigiocare Per andare a godersi un pochettino di più Questi particolari Andrò magari a vedere poi se ci sono dei video Di teorie del complotto Di teorie di cosa dice questo gioco Perché è davvero molto interessante Io ve lo consiglio a un prezzo di 15 euro Se non ricordo male su Steam E per me è stata davvero una bella scoperta Magari 15 euro non li avrei spesi Ma perché ha qualcosina in meno ecco Di Inside e Limbo Forse un po' la colonna sonora Forse un po' il fatto che comunque è qualcosa di Un gameplay già visto Ecco Però sì ve lo consiglio Detto questo io vi auguro che Mi auguro Che la recensione sia servita Vi auguro una buona giornata E ciao a tutti Lasciate un mi piace